Casa di riposo San Giuseppe, una secolare esperienza al vostro servizio. La storia di casa San Giuseppe come luogo di accoglienza comincia nel 1907. L'antica villa nel 2003 è stata rilevata dal consorzio COESO Firenze e dalla cooperativa Alveare e ristrutturata completamente. Attualmente la struttura è stata autorizzata come residenza sanitaria assistenziale e può accogliere fino a 40 posti in forma residenziale e 10 posti per il centro diurno per ospiti con patologia Alzheimer. Sono disponibili camere doppie o singole, una sala TV, il giardino. L'attività della casa comprende assistenza per anziani sia autosufficienti che non, assistenza riabilitativa, assistenza infermieristica. Si attuano fisioterapia e rieducazione funzionale. Si offrono inoltre attività ricreative, musicoterapia, parrucchiere, lavaggio biancheria, assistenza domiciliare. La cooperativa Alveare si trova in provincia di Firenze, a Borgo San Lorenzo, in località Ronta, via Faintina 11.